Benvenuti all'Adi Design Museum con Passo d'Oro, un museo inaugurato il 25 maggio scorso, un museo che mostra il design come non l'avrete mai visto, dedicato certamente agli esperti di settore, ma soprattutto al grande pubblico, che potrà trovare tante questioni, tante domande e speriamo anche qualche risposta. Buon Italian Design Day a tutti! Buon Italian Design Day a tutti!